Salve a tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti in questa nuova recensione di questo film che ho qua in blu-ray Che mi è stato regalato da un qualcuno che non si è palesato in un mese Cazzo mi ha regalato 100 euro di film ma manco si è fatto sentire Io lo ringrazio tantissimo che hanno fatto su questo film che io non conoscevo Ovvero parliamo dell'uomo sulla strada Un film di Gianluca Mangiasciutti con Lorenzo Riclmi e Aurora Giovinazzo Faccio vedere un po' il blu-ray portato da Eagle Pictures e prodotto da Eagle Pictures Sono contento che Eagle Pictures si stia mettendo sotto a produrre dei film Che il suo nome sceglie bene come produrli Allora questo film è un thriller Allora io mi aspettavo qualcosa di completamente diverso Però mi ha subito colpito l'inizio Ovvero questa fotografia molto curata Alcuni personaggi sono stati doppiati in italiano Anche se il film italiano forse perché facevano cacare a recitare Non lo so E inizia proprio con questa ragazzina Insieme a suo padre Che mi devo ricordare Irene Insieme a suo padre ha 8 anni Che va in giro a raccogliere funghi In questo boschetto Sembra mattina presto Sembra una giornata tranquillissima Fin quando Irene perde suo padre Non lo trova E capisce Prende è successo qualcosa di brutto Sente un brutto incidente Proprio il suo padre era a piedi Ed è stato scaramentato dall'altra parte della strada E vede questa Volkswagen Golf GT Che prende Si ferma lì La osserva Lei non riesce a capire bene Chi è dentro l'abitacolo E da lì Prende il padre è morto E la nostra Irene Dieci anni dopo E questa ragazza Scusatemi Di sole non c'è nessuno Ma o piove O ci sono questi stronzi Che rompono i coglioni Niente Ritornando a quello che stiamo dicendo Non riesce a vedere chi è Quindi siamo catapultati Dieci anni dopo Ci viene detto Una scritta Vediamo lei che Prende è diventata Una nuotatrice Semi professionista Nel senso Si sta puntando molto in alto Si sta allenando da tanto tempo Ed è l'unica sua passione No? Il nuoto Finisce Prende arrivare seconda E viene quasi squalificata Questo che ci stava dietro da tre anni Che l'allenava Gli chiede di chiedere scusa a questa qua Ma capiamo che Irene è una ragazza molto Una testa calda Una ragazza che soffre tanto E non sorride mai C'è sempre questo bronce Incazzata nera Proprio col mondo Con la vita Che dopo che cazzo Ti viene strappato tuo padre Così non sai manco Chi cazzo è stato a ammazzarlo E ti cambia completamente la vita Perché poi la mamma Ha trovato un altro compagno Ha avuto un'altra Quasi Si è fatto una nuova vita Ecco Perché lei lo dice pure Dice Io sono questo scarabocchio Nel tuo disegno della famiglia Perfetto Cioè io sono Non servo un cazzo Cioè hai avuto pure un'altra figlia Con un altro uomo Io sono rimasto bloccato al passato Per niente E quindi cerca un po' Di ricominciare da sé A riprendere un po' in mano La sua vita E la cosa bella di questo film È che la recezione di questa ragazza Che io veramente Spero che abbia un grande futuro Perché è veramente bravissima Ovvero di Aurora Giovinazzo Ti rendi conto Che ancora c'è speranza in Italia Cioè nel senso Ci abbiamo davvero Dei ottimi attori ancora oggi È che bisogna cercarli Anche il nostro Altro protagonista Ovvero Lorenzo Rick Clay È anche bravissimo lui Cioè veramente Hanno un'espressività Vi cambiano completamente Si vede proprio Quasi una crescita Di questi due personaggi Il film dura un'ora e cinquanta Ma Attira proprio l'attenzione Cioè proprio Vi interessa Della storia Della nostra povera Irene E Della sua ricerca continua Di Quest'uomo Che gli ha portato via Il padre D'altra parte Abbiamo Proprio Cerchiamo anche di capire Ci fanno vedere Chi è stato A Investirlo Ma non perché Per fare spoiler O perché Ma capiamo che è lui Cioè questo qua Lorenzo L'attore Che E prende questo qui Anche lui Si è cambiato completamente Ecco Michele si chiama Nel film Ha cambiato la sua vita Cioè dopo questo brutto incidente E sono entrambi cambiati la vita Lei è cambiato in un modo Inveggio E lui è cambiato Poi niente In meglio Nel senso che dopo quella cosa Che non è stato mai preso Ha messo la testa a posto Vediamo che non guida più Ha dieci anni che c'ha questa autista Non beve più alcolici Ma Continua ad avere questa colpa Dentro di sé Fin quando Non si incontreranno Tutti e due È proprio Il destino Come si vuol dire Nel senso Il mondo è così piccolo Che guarda caso Lei andrà a lavorare Proprio nell'azienda Dove Ha preso in mano Le eredini Michele Perché suo padre è morto Da circa tre anni Quindi lui ha preso le eredini Una scopatina La discoteca Però si sono legati Grazie a questo segreto Che hanno avuto E si sono messi insieme Quasi quasi Del tipo Stiamo insieme Perché mi cago addosso Che forse Tu parlerai Perché non si è stato Se mai trovato Chi è stato il colpevo Qui ci lavorerà La nostra Irene Anche qui Si comporterà In un modo Che attirerà Le attenzioni Anche di Michele E fin quando Michele Scoprirà Che prende Questa qua È la figlia Del tizio Che lui ha investito Irene non sa un cazzo Perché giustamente Non sa niente E qui si creerà Quasi un rapporto Tra di loro Nel senso che Lei sembrerebbe Quasi interessato Quasi che Si sta innamorando Di questo Michele Che sembra quasi Un centiluomo Non vorrebbe Entrargli nelle mutandine Come tutti gli altri Uomini che Vedremo durante il film E che tutti quanti Vogliono prendere Le grazie Della nostra Irene Quindi Irene si inizia A interessare Anche lui Non volendo Nel senso Con tutto ciò Che Sa benissimo Cosa ha fatto Anche lui Sta iniziando A provare Dell'affetto Dell'attrazione Anche sessuale Nei confronti Della nostra Irene E il film Tiene questo Cioè Tiene in piedi Tutta sta cosa Nel senso di Un ragnare Mi arrivano sempre Insetti Mentre faccio video Guarda che figlio De Puttana Muori Dicevo Il ragnetto Sì L'ho Terminato Stavo dicendo E questa è la cosa Perché uno si fa Varie domande Dice Dove si andrà A arrivare Lo scoprirà Se lo scoprirà Cosa farà E la scrittura E la scrittura E la scrittura dei personaggi Mi è piaciuta Tanto Perché abbiamo Un'evoluzione Un background Di questi personaggi Sono ben recitati Ha un'ottima fotografia Il film Le ottime musiche Anche Mi è piaciuto Tanto Tanto Mi ha preso Cioè È riuscito A prendermi E sono pochi i film italiani Che io ho apprezzo Cioè Quest'anno forse Quando ne sono state 4-5 Che non ho parlato bene Di film italiani E secondo me Sto film Va visto Anche se sembrerebbe Qualcos'altro Nessanto Alla copertina L'uomo sulla strada Sembrerebbe Tipo The Hitcher Sembrava una cosa del genere Invece no È tutta un'altra cosa Quindi Compratelo in Blu-ray In DVD Non lo so Non ho leggiatelo Se ci sta Ve lo dovete guardare Io non voglio dirvi nient'altro Non voglio farvi spoiler E vi ripeto Vi lascerà soddisfatti Cioè proprio Alla fine del film Ah è bello Sono soddisfatto Che bello Cioè Un film Che mi soddisfa Italiano E io sono contento Di parlare di film belli italiani E sarebbe bello Che anche altri youtuber Si spingessero a parlare Anziché parlare sempre Delle soliti film Andati 50 anni fa Parlerebbero Del nuovo Cinema italiano Di adesso Lo so Non sono paragonabile Ai maestri di una volta Però porca puttana Un po' di considerazione Secondo me Gliela dobbiamo anche dare Perché non fanno cacare Questi film Anzi Vanno visti Io come sempre Vi ringrazio Per l'attenzione Che mi avete concesso Se vi va Iscrivetevi al canale Lasciate un mi piace Commentate Fatemi servire la vostra Se lo conoscevate o meno Ringrazio ancora questa persona Che mi ha regalato questo film Che non so chi è E Se vi va Di donare Qua sotto a destra C'è la donazione Il cuore di Cino Super grazie E noi ci vediamo sempre In un prossimo video Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti